Il progetto è della WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Due volte alla settimana, il martedì e il giovedì mattina, un gruppo di anziani si ritrova alle 8.30 in piazza Matteotti a Bolzano e parte per una camminata di un'ora lungo le passeggiate di Isarco e Talvera. Al mattino mi sveglio, sono tutta dura, poi mi muovo e mi sento un bene da Dio. Affrontiamo la giornata molto bene dopo e stiamo bene e veniamo volentieri anche se andiamo via un po' stanchi. Ci scambia qualche chiacchiera, qualche parola, ci si aiuta. È importante fare bene l'esercizio e poi la compagnia. Tante volte non ho voglia, invece pensando al gruppo, a che brava la Deborah, tutto, è bello, è bello e si va. È tutta un'attività per restare sempre giovani qui, insieme ai giovani che siamo noi. Tanti benefici per la salute. Ottimo beneficio per le ossa, per il sistema respiratorio, circolatorio. Noi durante la camminata ci fermiamo anche per eseguire degli esercizi che riguardano soprattutto la coordinazione e l'equilibrio, che spesso inizia un po' a mancare in età avanzata. E quindi ridurre il rischio di quelle che possono essere fratture, traumi. La partecipazione è aperta a tutti. Basta la tessera associativa WISP che costa solo 10 euro. Dopo la pausa estiva si riprenderà a settembre. Sì, sì.